Lavoro, socialità e disabilità sono i principali temi del Fondo Sociale Europeo per avvicinare i giovani bambini alla lettura e alla scrittura creativa. A tal proposito, la Regione ha organizzato il concorso letterario Livre ebri di lettura rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Tre tracce da elaborare cimentandosi nei diversi generi letterari, nove premi in palio, ognuno da 1.500 euro, spendibili in attività extrascolastica. Il termine per presentare i lavori è fissato al 2 maggio. Per maggiori informazioni, consultare il sito concorso-livre-chiocciolaregione.molise.it o sul sito istituzionale della Regione Molise. L'idea nasce dal Fondo Sociale Europeo, da un confronto che abbiamo avuto con i membri della Commissione Europea. Si è pensato di sviluppare al meglio una parte dell'obiettivo competitività del Fondo Sociale, riservando uno spazio ai nostri ragazzi, ai bambini e ai ragazzi di questa Regione. per il tramite delle loro scuole. Ci siamo resi conto, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, che i nostri ragazzi non sono più abituati a leggere e non sono abituati a scrivere. Quindi utilizzando i mezzi, diciamo, quelli che gli sono ormai più propri, cioè l'utilizzo delle strumentazioni informatiche, li invitiamo a farsi portatori di innovazione e soprattutto di nuove idee su alcuni temi di rilievo. Socialità, lavoro e disabilità, come mai è la scelta di questi temi? Innanzitutto sono i temi portanti del Fondo Sociale Europeo, perché il Fondo Sociale ovviamente coinvolge proprio i temi del lavoro, quindi dell'occupazione, delle politiche del lavoro, dell'inclusione sociale a 360 gradi e quindi proprio della socialità e del welfare in tutte le sue espressioni. Le scuole come hanno accolto questa iniziativa? Le scuole, oggi lo vedremo, lo stiamo vedendo, sono entusiaste, perché al di là ora magari della bontà anche dei temi affrontati e dello stimolo che nasce per i nostri ragazzi, è comunque anche un cenno di attenzione verso le loro attività. Le scuole mulisane, ma un po' tutte, ma le nostre scuole sono molto molto attive su questo campo. Le scuole sono molto attivi per lo tempo. La scuole l'unica molto attenzione,